Musica Adolianico a Periceno sotto le stelle Sì abbiamo ripetuto questa manifestazione iniziata come idea l'anno scorso e speravamo però in una piccola sera d'estate invece purtroppo il tempo non ci ha assistito il clima non è proprio il massimo però è ancora abbastanza piacevole una serata a buffet una pericena con la discoteca mobile energia che l'impronta che vogliamo dare è abbastanza giovanile e speriamo infatti in un pubblico di giovani che ci raggiunga durante questa serata Come è nata quest'idea? Quest'idea è nata l'anno scorso in occasione del quarantesimo di fondazione della Proloco e volevamo fare una festa che adesso è occasione anche a noi di fare festa rispetto a un tradizionale pranzo o cena che è un po' statico così la gente si riduce a chiacchierare tra di loro a gruppetti e invece così abbiamo voluto questa idea di coinvolgere un po' di più la gente un po' più libera di muoversi di fare una serata un pochino diversa L'anno scorso ci è piaciuto purtroppo anche lì il tempo non ci ha assistito non c'era tantissima gente ma l'idea di per sé è stata carina e allora abbiamo voluto ripeterla anche quest'anno Il prossimo appuntamento con la Proloco? Il prossimo appuntamento con la Proloco facciamo la festa dell'anziano e dei nonni in collaborazione col comune che sarà 25 anni che lo facciamo e portiamo una rosa quest'anno a tutti gli ultraottantenni che a Dolianico comunque su 1500 abitanti uno più uno meno sono 100 che hanno più di 80 anni sono andato l'altro giorno in comune per ordinare le rose allora domenica mattina a messa poi la Proloco offre l'aperitivo e daremo la rosa agli ultraottantenni che sono a messa e poi passeremo nelle case a portarle a tutti Il prossimo appuntamento con la Proloco